Finisce nel registro degli indagati un sessantenne di Teggiano accusato di omicidio colposo stradale per la morte di cono innamorato. L'incidente è avvenuto il 4 agosto scorso lungo via del Corticato, strada che collega la frazione di Pantano di Teggiano con quella di Silla di Sassano. Innamorato era in sella alla sua moto quando si scontrò violentemente con una Fiat Bravo guidata dal sessantenne trovando la morte. I carabinieri hanno raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica dell'incidente dai quali è emersa la responsabilità dell'uomo alla guida dell'auto. Secondo l'accusa il conducente della Fiat Bravo avrebbe effettuato una manovra negligente e imprudente che avrebbe causato il sinistro nel quale il cinquantenne tegianese è deceduto. Innamorato stava facendo ritorno a casa dopo il lavoro ma a causa del forte impatto con l'auto sbalzò dalla sella della sua moto e finì sull'asfalto. A nulla servirono i tentativi di rianimarlo da parte del 118. La scomparsa del cinquantenne dipendente di un'azienda del posto colpì tutta la comunità di Teggiano dove l'uomo era molto conosciuto dai compaesani.